AAAAAH! 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 Non so quando! Non riesco! Aspetta che non mi ha cambiato inquadratura! Madonna! Dov'è? Aiuto aiuto! Aspetta! Cazzo non la fai! Salve a tutti ragazzi! Bentornati sul canale di MADMAN! E MICK! Siamo qui su! Ma c'hanno dei pali su per il... Allora, io sono a destra, sono Hank e tu sei Lidia, giusto? Sono Lidia! Che gioco è? Non mi ricordo come si chiama! Outbreak! Nightmare o qualcosa! Guardami! Guarda questo! Guarda lui! Aspetta, vieni qua! Divertiti! Eh, vabbè, abbiamo finito di fare i cazzo... Uh, che hai fatto? Cos'è? La discoteca! Vabbè, ti abbaglio! Ah, ma che spettacolo sto gioco! Allora, cosa dobbiamo fare? Rich the Evac Zone! Ah, la zona evacuazione sarà quella dove bisogna andare in bagno? Come si prende sta chiave? L'hai presa! Dove devi andare? Scusami! No, volevo... Di qua, di qua! Aspetti! Abbiamo il coso in comune! Cosa vuol dire? Abbiamo... Non è che io ho un... Certo! Ma smettila di aprirlo! Così voglio aprire qua! Eh, devi... Serve una chiave d'oro! Oh no! Sono bloccato qui! Senti, vuoi aprire sta cavolo di porta? Dov'è la porta da aprire? Qua! Qua! Apri sta porta, per favore! Usa! Usa! Fai Usa! Ma torna che... Ma... Arma! Ah, no, è una bandiera! Occhio che ci sono i mostri qua! Eh! Fuoco! Guarda che bello il fuoco! Ma che mostri! Bello, è realistico! Guarda! Equip! Sì, sì, sì! L'ho presa! Come faccio? Come... Cazzarola! Ecco! Sono nel fuoco e non succede niente! Eh, perché è un gioco molto... Ah, no! Abbiamo due... Abbiamo due inventari diversi, però è sullo stesso schermo! Però è molto intelligente! Aspetta, aspetta! Dove sei? Mamma, fa sbroccare sta roba! Fa sbroccare... Ma più che altro che alcune volte cambia di... Cambia... Aiuto! Cambia l'inquadrazione e... Lascia! Mia, mia, mia! E il personaggio... Prendi, sì, sì! Ho preso l'ascia! La metto, la metto! Fermati! Ma scusami! Sta cosa che abbiamo il... Il coso in comune è pessima! Cosa fa con l'ascia? Come faccio a colpirti con l'ascia? Ogni tanto cambia... Ogni tanto cambia... Ogni tanto cambia inquadratura e... Smettila! Ma scusami! Smettila! Non si può giocare in due a sto gioco con l'inventario in comune! Sto facendo niente a vomitare! Mi devo togliere gli occhiali! Smetti questo inventario, per favore! Ma come si mira! Ma cosa fai? Ma mi hai quasi ammazzato! Dove sei? Dobbiamo cercare... Dobbiamo cercare le provviste! Aspetta, vieni qua! Vieni qua! Ho l'inventario pieno! Ma che bello! Ma è pessimo dai! Ho fatto malissimo! Ma come ti permetti? Da un gioco così dici che è pessimo! Ma vergognati! Veramente ti meriti... Ti piace a te? Ti meriti di giocare a Resident Evil tutta la vita! Guarda! Ma bello! Ma che bello! Ma come ti permetti tu? Guarda che gioco questo! Ma vado... Mi fa andare al contrario il personaggio! Oh come si apre qua? Aperto aperto! Oh un fucile d'assalto! Ma come ti permetti tu? Guarda che gioco questo! Aspetta come faccio a buttare questa? No vabbè ma ragazzi questo dobbiamo portarvi la serie però eh! No! Via! Aiuto! No! Io non riesco a uscire da qua! Miche! Sono... Sono buggato! Eh Miche non posso... Mi spiace! Sì ma non si può pilotare questo personaggio! Ma io sono... Non so come uscire dalla porta! Fatemi uscire! Oh! Dove sei? Dove sei Miche? Non si pilota sto... Nooo ho finito i pagliettini! Miche dove sto? Arrivo! A zigzag! No! No! Non si riesce a filo! Non si riesce a spostare! Oh sei tu quello! Ah! Sei tu! Oh non funziona più il fustino! Ah! Non so come... No! Non riesco! Non riesco! Togli! Te l'ho uccido io! Aspetta che non mi ha cambiato inquadratura! Madonna! Madonna! Aspetta! Dov'è? Aiuto aiuto! Aspetta! Cazzo non la fai! Ah! 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 Ahia! Ahia! Non si può giocare! Non si riesce proprio! Io devo aspettare che... Non ci sta! Fammi... Fammi mettere qualcosa che ho... Per cui ho... Ho finito i proiettili e non potevo più fare niente! Tu almeno hai... Tu almeno hai la ascia! Che gioco! Come si fa a giocare una bella del genere? No, no! Io veramente! Io quando l'ho visto... Quando ho visto lo zombie... Oh ma ti giuro che andavo completamente al contrario di dove volevo andare! Seguimi! Non riesco a controllarla! Seguimi! 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 No! Non potete capire! Dovete provarlo! Che non si capisce! Cioè forse... No! E qua il problema sai! No! Ahahah! 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 bravo no ce ne sono anche dietro aspetta io sto picchiando questa no girati mi fa inchiafettare spacco la faccia forse va un pochino meglio però di qua? no credo di qui ah ecco ecco che è sta roba verde? eeeh ah è finito è un tutorial questo ma che cacchio adesso ne facciamo un altro ma poi ci dite voi se volete altri scenari guardateli bene diteci che scenari volete ma guarda questa col vestitino ammazza ah ok meno male ma ti sei preso il coltello o la pistola mi lasci qualcosa? io ho le pillole ma cos'è quella la pillola per non rimanere incinta ah no sono antidolorifici se vuoi ti lascio il coltello ma magari non so dove sei ma ah eccoti eccoti aspetta ti lascio il coltello grazie aspetta che devo arrivarci il coltello eh però ok ce l'ho si si preso guarda 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 arriva arrivo 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 ma cazzo non si vede niente no 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 ci sono due censuriamo la scena perché è troppo violenta ah l'hai ucciso no volevo ucciderlo dietro il pilastro col coltello ma dove è l'altro? è laggiù eh però qua ah ah oh che bello mi è piaciuto aspetta veda no troppo lontano io non posso muovere quando ho il coltello in mano posso solo fare così quando ho il coltello in mano guarda ma questo qua deve essere un gioco horror non divertente ma è troppo divertente per comprare ragazzi noi lo portiamo nella settimana horror ma porca miseria lo bar ok freddo e sangue calmo c'è uno zombie qua amiche aiutami arrivo arrivo in tuo aiuto donzella lo coltello lo coltello dove sei? si è fermato dove sei? ah mi ha preso oh ma non ti vedo ah sono qui guarda ho vinto vinto ma non capisco dove sei è bene comunque è molto divertente il gameplay io non capisco dove sei tu ah spavento ah ma sei qua come mai non hai preso il fucile? ma che fucile? c'è un fucile si sono occupato aspetta che ricarico ahia ho sbattuto contro il muro ahia ho sbattuto contro l'altro muro ahia sto tornando indietro sento rumori qua vieni ah spavento muori muori io sto sparando stai sparando guarda come spara è convinto c'è il ciccio qua muori mi abbasso mi alzo mi impietrisco mi impietrisco oh vuole te ciccio senti adesso aspetta no no cosa vuoi fare? ragazzi adesso io uso l'arma da fuoco ok io uso e tu usa il coltello vabbè aspetta aspetta ah non ce l'ho il coltello te lo do io ma scusami ce l'avevo io l'ho preso il coltello l'ho buttato via me l'ha sdoppiato cosa? me l'ha sdoppiato cioè io ho equipaggiato la pistola ma mi dice col coltello non puoi più non lo usa il coltello perché poi rimani col coltello per la vita usa il coltello usa il coltello devi provare no non leggere ma perché non leggere? non vuoi sapere la storia? è sicuramente molto profonda no 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 non ne voglio sapere ma c'è il sangue no ma do occhio di dietro io faccio questo qua e io questa muori le butela perché si gira al contrario il mio? non capisco ancora aspetta aspetta è morta è morta bravo bravo ma vogliamo usare la pistola no 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 io tanto non posso occhio eh in bagno signora scusi non ho visto che stava facendo le sue cose in bagno non la disturbo più aiuto no ma cos'ha quello? cos'è quella luce rossa? che ha? aiuto mi incappette l'angolo ma viene a aiutarmi ci sto provando ma il mio sincero non l'ha fatto sbagliata ecco bravo guarda cosa hai fatto sei morto eh certo non mi aiuti ah ma ce l'ho fatta rivivimi rivivimi oh madonna e come faccio? che ne so va avanti da solo allora ragazzi va avanti da solo io ti guardo non so cosa dire mi ha fatto uccidere cioè lo da solo contro è morto quello è andata via la luce perché quello aveva una e se era mangiato una torcia quindi non riesco ad andare dritto è ubriaco oh mamma mia vai vai dritto è lì il central loop c'è l'uscita lì vai vai c'è quello lì che sicuramente oh madonna oh da dove è arrivato no via scappa la porta non lì non lì vai avanti finisci il livello vattere no così scappa prendi la pillola io avevo una pillola per antidolorifica se vuoi io no bello l'effetto del fuoco su di lui comunque veramente bello ma dici che basta andare sulla porta ma sì è boh scappa ora scappa per la vita ma è tutto in fu non fa niente ci passi dentro no ma perché torni indietro eh non ci passo ma sì che ci passi da lì di fianco vai vai ah di qua vai vai amico mio vai apri apri ti serve la hard key no vabbè ma quanti ce ne sono sì ma ti serve un hard key no poi ehi no non andavi lì direi che può essere tutto per questo episodio dobbiamo farne gli altri allora io spero di non disinstalliamolo allora gli altri tre giochi ragazzi li porteremo di sicuro poi questo qua se volete ma speriamo che sia migliorato nel tempo questo qua o peggiorato se volete questo qua lo continuiamo avete visto quante scenari ci sono e se volete ogni tanto vi portiamo una partita su questo gioco non ce la posso fare tutti i video di questa settimana saranno dedicati ad Halloween e ci sarà anche uno speciale domenica comunque è uscito questo speciale però possiamo portarlo anche durante tutto l'anno questo gioco no ti prego perché no non ti è piaciuto? no ma è bello è molto bello ragazzi non capisce a volte lui non capisce tanto bene la bellezza di un gioco non riesce a forse tu capisci cose strane non riesce a entrare nella bellezza dei giochi questo veramente ha tanta bellezza dentro da esprimere e sta a noi esprimergliela ci vediamo alla prossima grazie a tutti